Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un prodotto gratuito Un prodotto gratuito, intanto mi sento la gattina miagolare Che io e i miei amici abbiamo scoperto da poco tempo, per quanto ormai è sul mercato, da qualche anno Voglio parlarvi di OnePageRules Un sistema universale, praticamente, adattabilissimo Per giocare a qualsiasi wargame o skirmish game abbiate in casa Kill Team, War Cry, Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Fantasy Vecchio Mondo Oppure, perché no, anche Star Wars Legion e altri giochi, appunto, sia di schermaglie che di battaglie campali Un sistema gratuito, velocissimo, fatto veramente molto bene e molto competitivo Anche per organizzare dei tornei, cosa che anch'io e il mio gruppo stiamo facendo Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Come detto poc'anzi, OnePageRules è un sistema, è un regolamento universale, immediato, molto veloce Ma non per questo meno competitivo e soprattutto meno efficace per organizzare anche i tornei belli grandi Perché OnePageRules, ora poi nel corso del video vedrete, appunto, filmati e tutto quanto Vi farò vedere anche un po' la sezione, quella invece a pagamento Perché ovviamente anche la sezione a pagamento è un Patreon È un regolamento di una pagina Che si riassume, il regolamento vero e proprio ne ha circa una ventina Però tutte quante queste regole sono riassunte in un'unica pagina Quindi una volta letto il regolamento da 20 pagine potete prendere quello da una e ci avete tutto scritto assolutamente lì È un gioco molto immediato perché per fare una similitudine A differenza di un Warhammer Age of Sigmar dove c'è la fase di movimento, la fase di tiro, la fase di carica con un conseguente corpo a corpo e la fase degli eroi OnePageRules ha invece una fase unica La partita è divisa in round e ogni round è diviso dai sottoturni Quando inizia il round, il primo round, si muove un'unità a testa Quindi, mossa della mia unità, mossa dell'unità avversaria Poi ritocca a me, poi ritocca a te, poi ritocca a me Ed è tutto in uno, non ci sono le varie fasi Non è che io muovo la mia unità e nel turno dopo, quando arriva la fase di tiro, tiro No, è tutto nello stesso Quindi puoi muovere e tirare Puoi caricare, puoi marciare O puoi caricare per andare in corpo a corpo con un'altra unità Nel caso, sempre nello stesso turno e nella stessa azione Se hai distanza di carica e carichi un'unità avversaria Il combattimento si svolge subito Ed è la cosa bella perché un gioco immediato è un po' un Warcry Forse il gioco li si avvicina di più A livello di skirmish è Warcry Perché anche Warcry è così Non c'è una fase di corpo a corpo, una fase e tutto Ma si va unicamente appunto a fare la propria azione E successivamente si fa subito la risoluzione dell'azione stessa appena conclusa Quindi è una cosa interessante che se io muovo Ho mosso Fine del turno di quell'unità Se io muovo e tiro Ho tirato nello stesso turno Se io ti carico faccio il corpo a corpo Oppure lancio un incantesimo Ed è veramente una figata e molto veloce Anche perché le regole sono semplici Le vostre truppe hanno un tiro per colpire Che si chiama tiro di qualità E un tiro di difesa Il tiro di difesa per resistere agli attacchi Che viene modificato dal valore AP Penetrazione armatura Dell'attacco dell'avversario E il livello di qualità Il quality È un tiro per tutto Tiro Abilità per tiro a distanza Quality Corpo a corpo Quality Test sulla morale Quality Altre cose È sempre il tiro di quality Che fa tutto quanto A parte la difesa Che appunto è il valore di difesa Quindi è anche molto semplice da capire Ogni unità ha un equipaggiamento Equipaggiamento che tramite l'app del sito Può essere espanso Come vedete è molto facile Abbiamo la lista dell'esercito Con un più Si va ad aggiungere un'unità E poi successivamente Si può dare tutte le armi E le varie opzioni Che vengono scritte nella scheda In più Questo programma Nel buon stile Del vecchio Battle Scribe In alta a destra Vi fa anche presente Se ci sono degli errori Quindi se sono usciti degli errori Nella creazione dell'esercito In alta a destra Ve lo fa presente Così da correggere subito Ed è un gioco Che a me sembra particolarmente bilanciato Anche se Stiamo facendo le prime partite Quindi cerchiamo un po' di prendercelo a mano Ma non vi preoccupate Perché sul canale Stiamo facendo un torneo Sul mio canale Twitch Torneo che poi viene Le varie battaglie Vengono tagliate Montate E caricate in video Molto più brevi Una partita durebbe Tre ore Su Tabletop Simulator Vengono caricate Direttamente Sul mio canale YouTube Dove le potrete rivedere Anche per capire un po' Le regole E vedere più eserciti Anche perché questo torneo Lo stiamo facendo in sei Quindi perlomeno sei eserciti Vedete un po' come funzionano E vi fate un'idea per la lista Questo OnePage Rules E come detto all'inizio del video Anche una sezione a pagare Con un Patreon Che voi potete fare Se non erro Ci sono due tagli Tipo 5-10 euro al mese Con cui Potete direttamente Prendere le loro miniature Che non sono miniature pronte Non hanno un negozio Sono STL Quindi comunque Dovete avere una stampante 3D Per poterle stampare Apro una parentesi Se volete ordinare Un esercito Di miniature stampate In alta risoluzione E in resina Andate sulla pagina Facebook Che trovate Secondo link In descrizione Di mia moglie Sulla pagina Electra 3D Print Se volete ordinare Un esercito Ovviamente ci dite A me mi servono Mi servono Per fare un esercito Da mille punti Per OnePage Rules Non lo so Di Shivalrous Kingdom Oppure Dei Goblin O degli Orchi Mi servono 40, 50, 60 miniature Per fare un esercito Vi si fa un conto Tutto quanto E ovviamente Con le STL Presi dal Patreon Vi si stampano Quindi Quello non è un problema Se volete stamparvi Un esercito Contattate mia moglie E addirittura Gli eserciti Si vendono in due formati Stampati Puliti Trattati Tutto quanto In resina In mandati Oppure stampati In dipinti Ovviamente Hanno due costi Differenti Dipingere tutto quanto Un esercito È un lavoro che richiede del tempo Però comunque Quello Andate sulla pagina Di mia moglie E così Nel caso Avete l'esercito Stampato Oppure stampate Il dipinto Quella è la vostra Vostra scelta E tornando appunto Al gioco Il gioco è veramente Molto immediato Veloce Ve lo ho detto È tutto nella stessa azione Mi muovo Stessa azione Tiro Nella stessa azione Mi muovo e tiro Carico Lancio un incantesimo Quando muovi Con l'unità Con l'unità Deve fare la sua azione Al momento che Una io Una te Una io Una te Una te È finito il turno È finito il round Si passa al round successivo Ci sono anche dei manuali A pagamento Che potete andare a comprare Direttamente E sono magari Missione aggiuntive Regolamento espanso E altre cose Carte ad esempio E altre cose molto carine Al momento Ce n'è per tutti i gusti Andando sempre su Warhammer C'è Il fantasy In stile Age of Sigmar Il fantasy In stile Reggimenti Del vecchio mondo Il futuristico In stile 40.000 Il futuristico In stile Kill Team E addirittura A gran richiesta Hanno fatto uscire anche FTL Faster Than Light Che è la versione invece Di Battlefleet Gothic Quindi a chi Vorrebbe tornare a giocare A un bellissimo capolavoro Di Battlefleet Gothic Lo può fare Direttamente anche adesso Con il regolamento Di One Page Rules Quindi One Page Rules È stata una piacevolissima scoperta E talmente tanto Ci è piaciuto Che non è che lo stiamo giocando Nel giro di una settimana Da quando l'abbiamo conosciuto Abbiamo organizzato Un torneo Fra amici Perché ci sta garbando Talmente tanto Che abbiamo deciso Di fare un torneo E come ripeto Vedrete a breve Sul canale Le partite Che abbiamo fatto Quindi Anche per studiare Un po' le regole O vedere un po' Come funziona Avrete direttamente I I Battle Lore Direttamente sul canale Ragazzi Questo era tutto Io spero che vi possa interessare Vi lascio ovviamente Terzo link in descrizione La pagina di One Page Rules E poi sulla pagina Trovate tutti i manuali Gratuiti Non dovete spendere un euro Oppure la possibilità Di fare il Patreon Per le miniature O di andare sul sito Per pagare I manuali Quelli aggiuntivi Ma che non servono a niente Quindi se volete Regole ancora più Complesse Cioè vadano un pochino A mettere Delle cose in più Per le vostre tattiche Magari di giocatori Veterani Dark Core Lo potete fare Ma non ce n'è bisogno Noi stiamo giocando Solo con la roba gratuita Ciao ragazzi Alla prossima Se questo video ti è piaciuto Lascia un like E clicca sulla campanella Per essere sempre aggiornato Ricevere notifiche E non perderti nemmeno Un video in uscita Primo link in descrizione Primi link che trovate Ricordatevi sempre Di iscrivervi anche Al canale Facebook Al canale mio Di Live Twitch Alla mia pagina Instagram E alla mia pagina TikTok Che sono sempre aggiornate E su Twitch Mano a mano Troverete la programmazione Aggiornata Con tutte quante Le live del giorno Quindi guardatela sempre Perché ci sarà sempre La programmazione Aggiornata Mi raccomando Iscrivetevi soprattutto E social Perché sono sempre aggiornati E se devo comunicare qualcosa Anche per il canale YouTube Lo troverete sempre lì Ciao alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti